Benvenuti in un altro appuntamento organizzato dal GIS webinar. Sono Paolo Ciacci, faccio parte della Società della Medicina Interna Italiana. Ringrazio Giovanni per l'invito e per la moderazione. Oggi parleremo della malattia di Fabri, una malattia non ad altissima prevalenza ma che è di interesse assolutamente internistico per via del fatto che colpisce numerosi organi e per cui è importante individuare e conoscere i soggetti che potenzialmente possono essere affetti. Passo la parola alla collega Natalia Scaramellini che ci presenterà gli speaker e poi avviamo la presentazione. Buongiorno a tutti, ciao Paolo, grazie per questa opportunità di permetterci di parlare della malattia di Fabri, come hai detto tu assolutamente importante. Ce ne parleranno oggi Valeria Di Stefano e Marta Ferraresi, due interniste specializzando in medicina interna e dell'Università degli Studi di Milano che lavorano nella medicina interna di indirizzo metabolico del policlinico e in particolare alla Centro Ebonoglobinopatie e disturbi dereditari del metabolismo, centro che segue malattie rare di vario genere e che si occupa anche di malattie di accumulo lisosomeale tra cui appunto la malattia di Fabri. Adesso però lascio la parola a Valeria e Marta che ci racconteranno cosa deve sapere l'internista di questa malattia. Buongiorno a tutti, io sono Valeria. Parliamo quindi di malattia di Fabri. È una malattia da accumulo lisosomiale dovuta da una carenza dell'enzima che è l'enzima alfa galattositasi A. Si trasmette con ereditarietà di tipo X-linked ma colpisce sia i maschi che le femmine. È una malattia multisistemica e progressiva con un'ampia variabilità clinica. Ricordiamo che gli isosomi sono quegli organelli presenti nelle cellule del nostro organismo che servono a compartimentalizzare le idrolasi acide. L'alfa galattositasi A è un'idrolasi acida che normalmente degrada il globo triosil ceramide, GL3 o GB3, che è un glicosfingolipide, in GL2 più galattosio. Quando una mutazione del gene GLA che si trova sul cromo X determina una carenza dell'enzima alfa galattositasi A, il GL3 non è più degradato e quindi si accumula a livello dei isosomi. Il danno inizialmente è cellulare, poi con il progredire della patologia diventa tessutale e infine determina danno d'organo, ovvero gli organi più affetti sono il cuore, il rene e il sistema nervoso centrale. È una malattia rara con una prevalenza tra gli 1 e gli 8 mila e gli 1 e i 117 mila maschi. In realtà sappiamo che questi numeri di prevalenza sono sottostimati, questo lo sappiamo da programmi di screening. Inoltre in pazienti giovani con ictuscriptogenetico oppure con insufficienza reale senza una chiareziologia o con ipertrofia cardiaca non spiegata da cause genetiche, la probabilità di malattia di Fabri aumenta e quindi è molto importante tenerla in considerazione in questi casi, come poi vedremo. Il ritardo diagnostico è di circa 15 anni dalla comparsa dei sintomi, sintomi che compaiono di solito nella prima decada di vita e questo è dovuto al fatto che è una patologia poco conosciuta e anche che una errata diagnosi iniziale può poi portare a un ritardo nella corretta diagnosi. Perché ne parliamo oggi? Come diceva Paolo, perché l'internista è colui che mette insieme segni e sintomi di organi anche molto diversi tra loro e la malattia non è forse così rara come si pensa e l'internista è colui che potrebbe far emergere tutto un sommerso di non diagnosi che attualmente esiste e intervenire in modo da limitare la progressione della patologia con le terapie che abbiamo in modo da impedire il danno d'organo che poi diventa irreversibile. È una malattia, dicevamo, a trasmissione X-linked, quindi vuol dire che tutti i padri con il cromosoma X-affetto lo trasmettono a tutte e sole le femmine, mentre la madre con il cromosoma X-affetto lo trasmette al 50% della prole indipendentemente dal sesso. Quindi si potrebbe pensare che sia una malattia esclusiva del sesso maschile. Questo non è assolutamente vero, è un errore frequente, ma non è così, è una patologia anche che interessa le femmine e questo per il fenomeno della laionizzazione, quindi per l'inattivazione casuale del cromosoma X. Per questo lo spettro clinico nelle donne può variare da un fenotipo asintomatico a un fenotipo molto grave. La patogenese è spiegata dall'accumulo del glicosfingolipidi, quindi il GL3 e un suo derivato, che è il laso GL3, negli isosomi delle diverse cellule, con quindi conseguente danno tessutale e poi danno d'organo. A livello cellulare si ha disfunzione con apoptosi, aumento di infiammazione, rilascio di radicali liberi e fibrosi. Una sede tipica di accumulo del GL3 è l'endotelio vascolare. Il danno viene anche per ischemia tessutale. Perché l'internista appunto dicevamo essere una malattia multisistemica, dove appunto gli organi più interessati sono il rene, il cuore e il sistema nervoso centrale, ma non sono gli unici organi interessati. Interessata anche l'acute, con gli angiocheratomi, come poi vedremo, l'occhio, il sistema nervoso periferico e l'orecchio. Ha un'ampia variabilità clinica, sia in termini di età di insorgenza, di progressione, di coinvolgimento d'organo. Anche tra portatori di una stessa mutazione e nella stessa famiglia la presentazione clinica può essere diversa. Come abbiamo visto nel sesso femminile la presentazione può essere molto varia. Esiste una relazione tra mutazione e fenotipo, che però non è in realtà sempre rispettata. I segni sintomi sono diversi nell'infanzia e nell'età adulta. Dicevamo che appunto ci sono delle mutazioni, più di centinaia di mutazioni che sono state identificate. Alcune mutazioni sono delle mutazioni patogenetiche che determinano un fenotipo classico o un fenotipo later onset. Altre delle mutazioni dei polimorfismi benigni o delle varianti di non chiaro significato. Le mutazioni che determinano un fenotipo classico sono quelle mutazioni che determinano una gravissima riduzione dell'attività enzimatica dell'alfa galattosidasi A, che è sotto quindi l'1%, di solito è sopra il 30-35%. Queste hanno un esordio precoce nella prima decada di vita e un interessamento appunto multisistemico. Altre mutazioni invece di solito, ma non sempre, determinano un fenotipo late onset con un esordio più tardivo, con una residua attività enzimatica comunque ridotta ma superiore a quella del fenotipo classico e in questi casi di solito c'è il coinvolgimento di un solo organo, più spesso o il rene o il cuore. Per quanto riguarda i sintomi, dicevamo che si differenziano in parte in infanzia e in età adulta. I primi segni e sintomi che compaiono sono le acroparestesie, che sono questi dolori urenti alle mani e ai piedi, che poi vedremo. Questi scompaiono poi nell'età adulta. Quindi compaiono le angiocheratomi, che sono delle lesioni cutanee, le lesioni quindi oculari, i disturbi gastrointestinali, mentre il rene e cuore, sistema nervoso centrale, che sono quelli poi che determinano più morbidità e morbidità, si sviluppano nell'età più avanzata. Parliamo del signor Fabrizio Anderson, che a 65 anni viene ricoverato in medicina interna per scompenso cardiaco in fibrillazione atriale ad elevata risposta ventricolare media. In anamnesi ha una storia di ipertensione arteriosa da molti anni, un'insufficienza renale cronica e una storia di ipoacusia. Per quanto riguarda l'anamnesi nefrologica, nel 2010 compare insufficienza renale ingravescente con proteinuria, per cui eseguiva una biopsia renale, dove veniva analizzata la sola microscopia ottica e si evidenziavano delle lesioni avanzate croniche che non erano specifiche, tra l'altro in un paziente iperteso. Quindi nel 2016, all'età di 61 anni, va incontro a insufficienza renale terminale, viene posto in dialisi peritoneale e un anno dopo viene trapiantato di rene. Molti anni dopo viene revisionata la biopsia, viene eseguita la microscopia elettronica e vengono riscontrati i podociti ripieni di vacuoli, come quello che vedete nell'immagine. Questo a sottolineare il fatto che la microscopia elettronica, se fosse stata fatta contestualmente nella microscopia ottica, forse avrebbe aumentato il sospetto di malattia di fabbri, che come immaginate poi questo paziente avrà. La patogenese è sempre spiegata dall'accumulo di GL3, che nel rene predilige il glomerulo, in particolar modo i podociti, il tubulo distale e le cellule muscolari lisce. I podociti vengono persi nelle urine in modo aumentato nella malattia di fabbri e correllano con l'entità del danno renale. Alla microscopia ottica possiamo vedere dei podociti ingranditi, vacuolizzati e possiamo vedere anche delle alterazioni alla microscopia elettronica dei processi pedicillari, quindi una retrazione degli stessi, un allargamento e anche gli zebra bodies, che sono queste disposizioni lamellari proprio del GB3, nelle cellule, nei podociti soprattutto, che è molto tipico della malattia di fabbri anche se non è patognomoico, perché ci sono altre condizioni come l'assunzione di alcuni farmaci, la gentamicina ad esempio, o la silicosi, che possono dare queste anomalie. Le manifestazioni cliniche compaiono nella prima o seconda decada di vita con albuminuria, proteinuria, di solito non è una proteinuria nefrosica, quindi una proteinuria lieve e moderata, poi è un progressivo declino del filtrato fino a raggiungere un'insufficienza renale verso i 40 anni di età e poi una malattia renale terminale. Altre manifestazioni sono la poliuria, questa è dovuta al fatto che il danno è a livello del tubulo distale, quindi non si è più capace di concentrare le urine. Spesso è frequente anche il riscontro di cisti renali, sia del seno sia parapieliche. Torniamo un attimo al nostro caso clinico e ci ricordiamo ricoverato in medicina interna per scompenso in una ritmia sopraventricolare, una risposta ventricolare elevata. Il paziente va incontro a rallentamento farmacologico, quindi cardioversione spontanea e durante il ricovero, nel mentre che è monitorizzato, si osservano dei run di tachicardia ventricolare non sostenuta. Il paziente quindi viene sottoposto a un ecocardiogramma che evidenzia una marcata ipertrofia cardiaca concentrica con un setto di 17 mm e iperocogenicità tessutale con una frazione di reazione preservata. A questo punto parliamo delle manifestazioni cardiologiche nella malattia di Fabri. Queste coinvolgono fino al 60% dei pazienti e sostanzialmente si manifestano con un quadro di ipertrofia ventricolare sinistra che compare dopo la terza decade di vita. rappresentano la principale causa di riduzione di qualità di vita e di morte in questi pazienti e, come già detto, purtroppo il ritardo diagnostico è spesso superiore a 15 anni in entrambi i sessi, sia nell'uomo che nella donna. Dal punto di vista patogenetico l'accumulo di GB3 e di Laiso GB3 coinvolge tutte le cellule del cardiaco e quindi miocardiociti ma anche febbroblasti valvolari, cellule endoteliali, le cellule muscolari lisce dei vasi intramiocardici e il tessuto di conduzione. Questo porta da una parte l'accumulo dei miocardiociti allo sviluppo di ipertrofia ventricolare sinistra e disfunzione diastolica, l'accumulo a livello delle cellule e delle pareti vasali a fenomeni schemici e quindi poi in un secondo tempo morte cellulare e fibrosi miocardica. A livello del tessuto di conduzione avremo la genesi di aritmie e disturbi di conduzione. Vi sono poi tuttavia, non è solo l'accumulo, proprio il danno meccanico dovuto all'accumulo di glicosfingolipidi all'interno delle cellule che causa danno tessutale, ma poi subentrano tutti dei meccanismi secondari di alterazione cellulare. Da una parte abbiamo proprio quella che è una disfunzione dei processi metabolici all'interno delle cellule, con quindi alterazioni appunto del metabolismo e alterazioni di tutta l'espressione, ad esempio, delle molecole di superficie, di trasmembrana, quali canali ionici e dall'altra parte l'attivazione di tutta la cascata infiammatoria del sistema immunitario che porta a rimodellamento della matrice extracellulare e fibrosi TGF beta mediata. Dal punto di vista della presentazione clinica, diciamo che se il danno cardiaco inizia precocemente, la progressione purtroppo è subclinica e i sintomi e i segni clinici in questi pazienti si sviluppano tardivamente e purtroppo sono molto specifici. Sono rappresentati fondamentalmente da segni e sintomi di scompenso cardiaco a frazione di direzione preservata, dolore toracico, aritmie, ridotta tolleranza allo sforzo e sincope. In particolare quest'ultimo, la sincope, vedremo che in questi pazienti non ha solo una genesi cardiaca, ma può avere anche un'origine disautonomica. Quello che ci viene un po' in aiuto nel porre il sospetto diagnostico di malattia di Fabri sono delle piccole caratteristiche che possiamo chiamare red flags che riscontriamo a quelli che sono gli strumenti diagnostici cardiologici che abbiamo a disposizione, quindi elettrocardiogramma, ecocardiogramma e poi in particolare vedremo la risonanza magnetica cardiaca. Dal punto di vista elettrocardiografico, quello che possiamo riscontrare sicuramente sono elevati i voltaggi del QRS dovuto appunto al quadro di ipertrofia, ma anche intervallo PR corto in assenza chiaramente di vie accessorie, ondetti negative, blocchi di conduzione a vari livelli, bradicardia, incompetenza cronotropa e aritmie, sia sopraventricolari che ventricolari come abbiamo visto nel nostro caso clinico. In particolare segnalo intervallo PR corto e bradicardia che sono diciamo tra i segni più precoci che si sviluppano in questi pazienti. Tuttavia possiamo notare come se l'intervallo PR corto ha una specificità superiore rispetto al secondo reperto, questo è presente solo nel 14% dei pazienti, quindi sicuramente poco sensibile. Mentre se la bradicardia la troviamo nel 72% dei pazienti, chiaramente è un reperto assai a specifico, nel senso che tra l'altro si tratta di pazienti giovani in cui la bradicardia di certo non è un reperto che ci fa porre il sospetto, diciamo. Dal punto di vista ecocardiografico invece abbiamo detto un quadro di ipertrofia ventricolare sinistra e in particolare in questi pazienti sono stati descritti tutti i pattern possibili di ipertrofia, non solo il quadro di un'ipertrofia concentrica che sicuramente è il più comune, ma anche asimmetrico settale e centrico o apicale. Tendenzialmente abbiamo una funzione sistolica conservata con una diastolica alterata, chiaramente questo nei casi più avanzati può non essere totalmente vero, nel senso che poi possiamo avere anche un'alterazione della funzione sistolica. Ipertrofia dei muscoli papillari, alterazione del global longitudinal strain che risulterà ridotto, coinvolgimento del ventricolo destro, dilatazione atriale della radice ortica e un coinvolgimento delle valvole, soprattutto valvola mitralica e valvola ortica. In particolare ci soffermiamo un attimo sulla riduzione del global longitudinal strain che non è specifico chiaramente per la malattia di Fabri, non c'è nessun segno patognomonico di questa malattia a livello ecocardiografico, ma questa riduzione del GLS l'abbiamo anche in fase precoce, prima che si sviluppi ipertrofia ventricolare sinistra. Questo è vero soprattutto per le donne ed è segno sostanzialmente della presenza di una disfunzione comunque miocardica. Per quanto riguarda invece l'ipertrofia dei muscoli papillari, anche in questo caso non è specifico, è presente nel 50% dei malati con questa malattia di Fabri. La cosa interessante è che se è presente ipertrofia più dell'85% dei pazienti Fabri sono assenti anomalie dei muscoli papillari, quali ad esempio lo sposizionamento anteriore del muscolo papillare anterolaterale o l'inserzione diretta sul lembo valvolare mitralico, che sono dei segni invece che riscontriamo in più del 90% dei pazienti con cardiomiopatia ipertrofica ereditaria, per cui che sicuramente entra in diagnosi differenziale in un quadro di ipertrofia ventricolare sinistra. Tornando un attimo al nostro caso clinico, a questo punto abbiamo detto, abbiamo fatto l'ecocardiogramma, decidiamo di passare alla risonanza magnetica cardiaca. In questo caso abbiamo una conferma della grave ipertrofia biventricolare con una riduzione dei valori di T1 nativo, questo segno è indice di una possibile patologia ad accumulo di glicosfingolipidi. Inoltre riscontriamo la presenza di captazione del gadolino a livello della parete inferolaterale e un aumento dei valori di T2, indice in questo caso da una parte di fibrosi e dall'altra parte della presenza di infiammazione miocardica. A questo punto vediamo quelle che sono le red flags che abbiamo in risonanza magnetica, che sicuramente rappresenta uno degli strumenti più importanti che abbiamo non solo per andare a misurare proprio la massa cardiaca e la funzione cardiaca, ma proprio per andare a caratterizzare il tessuto. Se appunto riscontriamo sicuramente un quadro di ipertrofia ventricolare sinistra e talvolta anche ventricolare destra, le caratteristiche più importanti che abbiamo in questa patologia sono una riduzione dei valori di T1 mapping, che sostanzialmente sono delle sequenze particolari che vengono utilizzate, tra l'altro non in tutti i centri che fanno risonanza magnetica cardiaca, ma nei centri più specializzati e dall'altra parte abbiamo un'alterazione del contrasto, la presenza di late gadolinum enhancement a livello soprattutto della parete basale inferolaterale. Il pattern di LGE a livello di questa parete non è specifico anche qui della malattia di Fabri, sicuramente è uno dei pattern più presenti. lo riscontriamo anche per esempio nelle miocarditi o nella sarcoidosi. La cosa caratteristica, diciamo, un po' più interessante è che la distribuzione del late gadolinum enhancement, ad esempio nell'amiloidosi e sempre nella cardiomiopatia e ipertrofiche ereditaria, è tendenzialmente un po' diversa. Nell'amiloidosi ha un pattern subendocardico diffuso, mentre nel secondo caso vi è una prevalenza anche del coinvolgimento del ventricolo destro che nella malattia di Fabri abbiamo meno. Ripeto però, nessuno di questi segni è patognomonico della malattia di Fabri. Parlando invece in maniera più specifica del Q1 mapping, questo è un reperto utilissimo per andare a riscontrare la presenza di danno cardiaco, di coinvolgimento, non di danno, di coinvolgimento cardiaco molto precoce. Difatti, se è presente nel 90% dei pazienti con malattia di Fabri e ipertrofia ventricolare sinistra, questa è già presente nel 40% di questi pazienti senza ipertrofia ventricolare sinistra, rendendolo quindi un utilissimo strumento diagnostico per andare a evidenziare un coinvolgimento d'organo anche in assenza che si sia sviluppato proprio un quadro di ipertrofia. Inoltre non ha solo un ruolo diagnostico, ma anche prognostico, nel senso che è stato riscontrato, appunto, è stato valutato il suo ruolo come fattore di rischio per progressione di malattia. In questa slide possiamo vedere come cambino i valori di T1 mapping che troviamo a sinistra e di volume extracellulare che poi in risonanza magnetica viene studiato attraverso il late gadolinum enhancement, soprattutto nelle varie cardiomiopatie. Possiamo notare, come abbiamo già detto, nella malattia di Fabri abbiamo una riduzione sostanzialmente dei valori di T1 nativo mentre è praticamente assente l'alterazione del volume extracellulare e la stessa cosa, possiamo dire, la ritroviamo nelle cardiopatie da accumulo di ferro, dove però sappiamo bene che la risonanza magnetica T2-STARD ci viene in aiuto andando poi proprio a quantificare quello che è il sovraccarico di ferro, oltre chiaramente all'anamnesi e al contesto clinico del paziente in questo caso. È interessante notare come invece nella cardiomipatia ipertrofica ereditaria e nell'amiloidosi vi sia un progressivo incremento del coinvolgimento del volume extracellulare quindi dell'alterazione di questo spazio e un incremento invece dei valori di T1 nativo. Il signor Anderson a questo punto ci porta a tutte la sua documentazione clinica e scopriamo che aveva fatto una risonanza magnetica encefalo per tremore alle mani nel 2019 che aveva riscontrato incidentalmente un'area di ischemia cerebrale. Quindi abbiamo parlato di cuore, di rene, parliamo adesso di sistema nervoso centrale. La presentazione più tipica nei pazienti Fabri è lo stroke e il più tipico è ischemico. Pazienti giovani tra i 35 e i 45 anni maschi con fenotipo classico hanno un rischio aumentato di 12 volte rispetto alla popolazione generale di andare incontro a stroke. Ovviamente può essere dovuto sia ad accumulo nell'endotelio vascolare quindi per problemi locali sia conseguente ad aritmie, quindi tromboembolico. L'altra presentazione può essere l'ictus emorragico anche se è più raro, più spesso vengono identificate delle microemorragie. Poi per alterazioni regionali della perfusione cerebrale per aumentata adesione all'endotelio di neutropini monociti possiamo avere la trombosi venosa cerebrale e un'altra presentazione abbastanza tipica è la dissecazione carotidea. Il nostro paziente appunto aveva un'area di ictus ischemico. Alla risonanza, oltre a queste aree di ischemiche emorragiche si può notare anche nell'80% dei pazienti con fabri delle iperintensità della sostanza bianca che possono essere multiple, singole e confluenti di solito per i ventricolari. Si può visualizzare l'atrofia cerebrale, d'olicoectasia della vertebra basilare e il segno del pulvinar. Il segno del pulvinar che è un'iperintensità in T1 della sostanza, cioè del pulvinar bilaterale simmetrico che si pensa essere dovuto a microcalcificazioni conseguenti a un ipoafflusso dovuto dall'accumulo del Gb3 nell'endotelio vascolare del circolo posteriore. Questo è un segno tipico della malattia di Fabri ma non patognomonico come si pensava all'inizio perché in realtà è stato riscontrato in altre patologie come anche infezioni del sistema nervoso centrale o encefalopatia di verniche. Questo segno non correla con il rischio poi di sviluppare ictus. Quindi il nostro paziente ha un problema renale, un problema cardiaco e un problema del sistema nervoso centrale e molti di voi penseranno ecco il solito paziente pluripatologico ricoverato in medicina ma basta, la storia finisce qui. In realtà qualcuno appunto viene in mente che possa avere la malattia di Fabri. E questo perché? Perché il sospetto nasce dal fatto che questo paziente ha avuto un'insufficienza renale che lo ha portato a trapianto senza una chiara eziologia e che ha un'ipertrofia cardiaca sì in un paziente iperteso ma con valori pressori sempre ben controllati che non convince del tutto. E quindi parte l'interdiagnostico che poi vediamo e intanto andiamo a vedere quali sono gli altri segni e sintomi tipici della malattia di Fabri che possono aumentarne il sospetto diagnostico. Gli occhi. Un segno tipico è la cornea verticillata che è un'opacità corneale, astriature, brunastre, giallastre che non compromette il visus presente nella quasi totalità dei maschi e nella stragrande maggioranza delle femmine visibile solo con un esame a lampada fessura e che può essere presente anche in pazienti o simile in pazienti che assumono amiodarone o clorochina una volta però eliminata la causa farmacologica è molto molto tipico della malattia di Fabri. La cataratta sia anteriore che posteriore quella posteriore invece è patoglionica anche se rara di malattia di Fabri tanto che detta cataratta di Fabri in questo caso compromette il visus e per accumulo nell'endotelio vascolare possiamo avere tortosità dei vasi congiuntivali e tortosità dei vasi retinici. Il nostro paziente è un inviato dall'oculista che rilevava una cornea verticillata. Gli angiocheratomi sono le manifestazioni cutaniche che accennavamo prima che sono delle macule papule rossoviolacee di pochi millimetri che non scompaiono con la digitopressione che sono dovute sempre all'accumulo del GB3 nell'endotelio dei capillari del derma che comporta quindi ectasia e fragilità degli stessi. Questi di solito sono localizzati nelle zone coperte da indumenti intimi dall'ombelico alla radice delle cosce quindi questi pazienti vanno sempre spogliati e ispezionati. In realtà devo dirvi però che seppure gli angiocheratomi sono un motivo rilevante di accesso al nostro centro per sospetto Fabri cioè molti dermatologi inviano da noi pazienti con angiocheratomi per sospetto Fabri in realtà poi quasi nessuno nessuno direi di quelli inviati ha poi riscontrato la malattia di Fabri. Questo per dire che possono esserci ma non sono così di sicuro così frequenti e così tipici come ad esempio la corna verticillata che è presente nella quasi totalità dei pazienti con malattia di Fabri. Il dolore che è il primo sintomo che compare è un dolore neuropatico che interessa le fibre di piccolo calibro che quindi l'elettromiografia di solito è negativa è un dolore che scompare in età adulta perché si perdono proprio le fibre nervose le manifestazioni dolorose sono di due tipi le acroparestesie e le crisi di Fabri le acroparestesie sono dei dolori cronici brucianti alle mani e ai piedi invece le crisi di Fabri sono degli attacchi di dolore acuto fortissimo che possono diffondersi a tutto il corpo e possono essere scatenate da febbre, stress, esercizio fisico, variazioni climatiche. Possiamo poi avere alterazioni della sudorazione che determinano poi intolleranza al caldo al freddo e per interessamento del sistema vestibolo cocleare tinnito, vertigini e ipoacusia che il nostro paziente aveva. Le manifestazioni gastrointestinali sempre dovute all'accumulo del GB3 a livello dei soprattutto dei gangli del sistema autonomo e dell'endotelio dei vasi mesenterici sono a specifiche la più presente è il dolore addominale possiamo avere alterazioni nell'albo, nausea, vomito o difficoltà a aumentare di peso in età pediatrica sono a specifiche ma sono il dolore soprattutto è un sintomo che riduce molto la qualità di vita di questi pazienti tanto per dire che bambini etichettati come bambini che non vogliono andare a scuola per mal di pancia in realtà poi avevano la malattia di Fabri. Per quanto riguarda la diagnosi dunque nel soggetto di sesso maschile quello che andiamo a fare è il dosaggio dell'attività enzimatica quindi dell'alfa-velottosidasi A nei maschi se affetti questa risulta sempre ridotta nella donna invece avendo l'eterozicosi come abbiamo visto il dosaggio dell'attività enzimatica può risultare sia ridotto lievemente anche ma anche normale per cui è necessario procedere direttamente con quella che è l'analisi genetica del gene GLA che sicuramente andiamo a fare anche nei soggetti di sesso maschile proprio perché abbiamo visto come il genotipo comunque indirizzi verso una forma di malattia. Entrambi i test si possono fare sia su sangue fresco che su dried blood spot in quest'ultimo caso sostanzialmente viene prelevato una provetta di EDTA dopodiché si riempiono qui nella figura sostanzialmente vedete una cartina che viene utilizzata per questo esame i cerchiolini che vedete sulla sinistra vengono riempiti con le gocce di sangue del paziente a questo punto viene inviata la cartina una volta che si è seccato il sangue in laboratori specializzati appunto fanno sia il dosaggio dell'attività enzimatica che l'analisi genetica che il dosaggio anche dell'ISOGB3 che abbiamo visto metabolita. Quindi è quello che sostanzialmente è stato fatto nel nostro paziente dove il dosaggio dell'attività enzimatica è risultato ridotto l'analisi genetica ha confermato la presenza di una mutazione nota per determinare malattia di Fabry quindi patogenetica il tutto sottolineiamo con un ritardo diagnostico di circa 8 anni e con lo sviluppo da parte del nostro paziente di tutte le complicanze possibili praticamente della malattia sottostante. Una volta fatta diagnosi di un soggetto è fondamentale lo screening familiare questo ci permette di andare a identificare tutti i soggetti chiaramente a rischio facenti parti della stessa famiglia e di fare delle diagnosi anche sempre più precoci all'interno della famiglia. Nell'immagine vedete cerchiato in rosso il soggetto probando che è giunto pochi anni fa nel nostro centro una donna che è stata riferita a noi perché a seguito di un ricovero per una ritmia sopraventricolare praticamente come il nostro paziente presentato e riscontro di ipertrofia ventricolare sinistra all'ecocardiogramma poi è stata mandata a San Donato a fare una risonanza magnetica cardiaca e lì hanno proprio posto il sospetto di malattia di Fabry per cui è stata inviata a noi e abbiamo confermato la diagnosi e vedete in azzurro tutti gli altri soggetti che sono stati diagnosticati con malattia di Fabry partendo dalla nostra paziente. Per quanto riguarda il ruolo della biopsia renale e cardiaca queste non sono fondamentali per la diagnosi risultano utili quando l'interpretazione di una mutazione del gene GLA non è chiara quindi quando siamo davanti a quelle che sono le varianti di incerto significato non sappiamo se sono patogenetiche o meno quando vi è incertezza sulla via o meno della terapia specifica per la malattia di Fabry perché non sappiamo non abbiamo dei segni chiari di danno d'organo e risulta utile quando chiaramente nella valutazione del danno d'organo entrano in gioco altre possibili eziologie questo è soprattutto vero nei pazienti che sviluppano più tardivamente magari il danno d'organo quindi con fenotipo Leitonset in cui chiaramente poi lo spettro di diagnosi differenziali si amplia sostanzialmente solo per l'età. Per quanto riguarda la terapia abbiamo una terapia specifica che permette di prevenire e rallentare diciamo la progressione del danno d'organo e la conseguente insufficienza d'organo e poi abbiamo tutta una terapia di supporto il cui fine è quello di trattare i sintomi del danno tessutale e di prevenire la progressione però diciamo del danno d'organo non specifica. Il tutto è gestito fondamentale la gestione da parte di un team multidisciplinare questo perché abbiamo visto è una malattia che coinvolge il nefrologo il cardiologo, il neurologo ma non dimentichiamoci anche il genetista un supporto psicologico e anche un team infermieristico specializzato. Per quanto riguarda la terapia specifica da una parte abbiamo la terapia enzimatica sostitutiva abbiamo due forme di enzima la galsidasi beta e la galsidasi alfa vengono entrambi somministrati per via endovenosa una volta ogni 14 giorni. Abbiamo poi la terapia sciaperonica che è una terapia orale il farmaco si chiama amigalastat sostanzialmente è una molecola che si va a legare all'enzima presente all'interno delle cellule stabilizzandone sostanzialmente la forma e quindi l'attività enzimatica permettendo un maggior metabolismo un maggior catabolismo poi dei glicosfingolipidi all'interno degli isosomi. Quest'ultima molecola è utilizzabile solo per mutazioni però suscettibili in particolare mutazioni che hanno risposto in vitro e sostanzialmente mutazioni che permettono di avere una minima attività residoenzimatica altrimenti appunto non si lega all'enzima. Vediamo qui come la terapia enzimatica sostitutiva che è stata approvata nel 2001 abbia cambiato l'aspettativa di vita di questi pazienti. in particolare vediamo le curve di pazienti maschi la cui aspettativa di vita pre-IRT era inferiore a 60 anni e questo abbiamo detto dovuto a complicanze renali, cardiache del sistema nervoso centrale prevalentemente mentre dopo l'introduzione della terapia specifica la sopravvivenza si è arrivata quasi ad essere sovrapponibile a quella della popolazione generale quindi quasi a 80 anni. Per quanto riguarda la terapia di supporto questa non differisce sostanzialmente da quello che è lo standard management di quelle che sono tutte le complicanze i sintomi cronici che abbiamo in tutti gli altri pazienti che vediamo nei nostri reparti e nei nostri ambulatori. L'unica cosa che è interessante andare a sottolineare è da una parte attenzione ai beta bloccanti sono pazienti bradicardici tendenzialmente e con un'incompetenza cronotropa. L'altra cosa carina da sapere è che la miodarone va a interferire all'interno dei misosomi con l'attività proprio del catabolica dei glicosfingolipidi portando a una sfingolipidosi e quindi andando a inibire tutta quella che è l'azione della terapia enzimatica sostitutiva che diamo a questi pazienti quindi è un farmaco che tendenzialmente andrebbe evitato. Abbiamo nuove terapie all'orizzonte nel senso che sono in corso tantissimi studi per arrivare appunto a terapie potenzialmente più efficaci questo perché abbiamo visto tutti i benefici delle terapie ad oggi disponibili non solo sull'aspettativa di vita ma proprio sulla qualità di vita anche di questi pazienti ma rimangono ad oggi ancora dei bisogni a cui non riusciamo ad andare incontro con ciò che abbiamo a disposizione. E tra le nuove terapie in via di sviluppo abbiamo da una parte la terapia enzimatica sostitutiva di seconda generazione con sostanzialmente un'attività una proprietà immunogenica ridotta terapia che funziona come inibitore del substrato tra cui una molecola che è il Venglustat che sono in corso studi di fase 3 sostanzialmente poi abbiamo tutto il grande capitolo della terapia genica quindi sia studi in vivo che ex vivo. Teco un messaggio intanto in questa slide diciamo riassumiamo un po' quelli che sono le caratteristiche principali che ci portano al sospetto di malattie di Fabri da una parte abbiamo manifestazioni cliniche dall'altra parte segni elettrocardiografici e di imaging cardiaco e poi indagini di laboratorio dall'esterno verso l'interno di questa di questa immagine aumenta la specificità dei segni e dei sintomi che andiamo a valutare sostanzialmente ricordiamoci fondamentalmente il coinvolgimento renale quindi microalbuminuria e proteinuria il coinvolgimento cardiaco e da questo punto di vista ricordiamoci che la risonanza magnetica è diventata fondamentale nello studio di questi pazienti e tra le manifestazioni cliniche sicuramente il coinvolgimento del sistema nervoso centrale è costruito anche in età giovanile dopodiché è utile ricordarci che ci sono delle piccole altre cose che impattano diciamo forse in maniera minore dal punto di vista della morbidità e della mortalità ma che possono essere altrettanto importanti per aiutarci nel porre un sospetto diagnostico e tra questi sostanzialmente ipoanidrosi intolleranza al freddo e al caldo sintomi gastrointestinali dolore neuropatico ricordiamoci anche cornea verticillata e angiocheratomi e ritorniamo un po' sul perché l'internista perché l'internista è capace di mettere insieme tutto intanto e perché anche potrebbe anche assumere un ruolo proprio di coordinatore di tutto quello che è il team multidisciplinare che serve per gestire questi pazienti quindi nefrologo, neurologo, cardiologo e così via infine ricordiamoci è una malattia sistemica e colpisce entrambi i sessi anche le donne la diagnosi per cuoce è fondamentale abbiamo una terapia specifica che migliora l'aspettativa di vita e la qualità di vita e ci aiuta a prevenire e rallentare il danno d'organo questo è vero nel momento in cui però viene avviata precocemente altrimenti l'efficacia sicuramente si riduce tantissimo e grazie mille per l'attenzione grazie mille Marta e Valeria per la vostra presentazione è stata sicuramente interessante ha dato moltissime input e informazioni immagino che anche tra chi ci sta ascoltando ci siano delle domande o delle curiosità da chiedervi per cui chi è in ascolto se avete domande da fare aprite pure i microfoni e saranno pronte a rispondervi se qualcuno avesse dei problemi in caso scrivete pure in chat che le porremo noi grazie mille Natalia dimmi io volevo ringraziare Valeria e Marta sicuramente la presentazione è stata molto molto chiara e veramente grazie per la chiarezza con cui avete sposto tutto l'argomento e volevo farvi un paio di domande giusto alcune cose le avete dette altre le volevo magari approfondire un secondo riguardo la terapia quindi partendo dalla fine nella vostra esperienza avete notato se al di là dell'aspettativa di vita i sintomi effettivamente regrediscono o semplicemente la terapia nel momento in cui viene iniziata blocca la progressione della della seconda cioè blocca la progressione più che altro ok quindi diciamo serve a rallentare sì poi tutti i sintomi collaterali vanno come diceva Marta anche cioè la terapia che si fa per tutte le patologie la insufficienza renali dolori dolori neuropatici quindi ovviamente più un tipo di terapia che va a coprire quel tipo di dolore però cioè purtroppo è proprio tra gli quelli che possiamo definire unmet needs che abbiamo ancora con la terapia a disposizione oggi nel senso che se da una parte questa può aiutare appunto nella progressione del danno d'organo aiuta ancora poco sulla gestione sul controllo proprio dei sintomi ad esempio il dolore addominale un sacco di persone un sacco di pazienti continuano ad avere dolore addominale che è invalidante ok chiaro allora dalla chat chiedono se ci sono preferenze e indicazioni iniziare la terapia enzimatica oppure la terapia sciaperonica allora l'inizio della terapia intanto le indicazioni dipendono dal fenotipo nel fenotipo classico nel soggetto maschio si inizia sempre la terapia tra terapia enzimatica o terapia sciaperonica questo dipende intanto dalle mutazioni nel senso che se sono mutazioni suscettibili di terapia sciaperonica è possibile anche pensare di iniziare la terapia sciaperonica che comunque è una terapia molto più nuova i cui dati di efficacia ad oggi ma abbiamo dei buoni dati di efficacia diciamo sulla forse più che altro progressione sulla prevenzione soprattutto del danno renale sul danno cardiaco abbiamo un po' meno dati per quanto nel sempre fenotipo classico e nei soggetti di sesso femminile questo dipende dalla presenza di segni e sintomi di danno d'organo se presenti inizio la terapia e nelle pazienti che invece sono asintomatiche cioè sostanzialmente se anche un soggetto è asintomatico ma comunque riscontro il danno d'organo inizio la terapia nei soggetti invece che hanno un fenotipo un genotipo scusate che è late onset devo valutare sia nel maschio che nella femmina la presenza di danno d'organo sia in soggetti asintomatici che in soggetti sintomatici e a questo punto inizio la terapia poi di fatto nel maschio si fa praticamente sempre la terapia perché è difficile che non abbiano comunque un danno d'organo grazie un'altra curiosità che chiedono se riuscite a precisare un quadro comparativo e le differenze tra quella che è la amiloidosi cardiaca e invece la manifestazione cardiologica del fabri allora intanto la amiloidosi è una patologia che coinvolge il tessuto extracellulare prevalentemente mentre nel malattia di fabri abbiamo un accumulo di glicosfingolipidi intracellulare e quindi comunque se questo non lo non possiamo vederlo molto bene all'ecocardiogramma alla risonanza magnetica possiamo porre un sospetto diagnostico invece più maggiore sicuramente più indirizzato grazie agli strumenti che abbiamo visto dopodiché allora non so dal punto di vista elettrocardiografico mi viene in mente l'amiloidosi caratteristica sono i bassi voltaggi del QRS atipico in un quadro di ipertrofia ventricolare sinistra mentre è classica la presentazione del paziente fabri per quanto riguarda i reperti ecocardiografici ecco qui è interessante nel senso che l'iperecogenicità tessutale caratteristica dell'amiloidosi attenzione perché è descritta anche in in pazienti con malattia di fabri tant'è che un lavoro citava il fatto che comparando ecocardio di pazienti con amiloidosi e pazienti con malattia di fabri sostanzialmente quello che risultava essere diciamo il segno più specifico di amiloidosi c'era la presenza di versamento pericardico ad esempio in modo dinamicamente chiaramente non significativo ma era più specifico dell'iperecogenicità tessutale e poi all'ecocardio l'amiloidosi è una cardiopatia restrittiva alla fine invece il fabri si è anche classificato così però può mimare una cardiopatia ipertrofica che può anche addirittura essere ostrettiva quindi di solito non lo è ma può anche esserlo ci chiedono poi qualche precisazione su come viene effettuato lo screening familiare in che cosa consiste quindi qual è il test che viene fatto e con quale criterio scelgo i familiari se c'è un criterio di genere legato al grado di familiarità oppure se scrino soltanto i pazienti sotto una certa età si inizia dai pazienti più prossimi ovviamente al probando e poi con il test di solito dell'attività enzimatica e poi man mano si espande la famiglia a seconda di cosa si riscontra cioè gli altri soggetti che poi hanno la malattia di fabri fondamentale fare un albero genealogico esatto come quello che vi ha fatto vedere Marta sostanzialmente a questo punto con l'albero genealogico si vanno a identificare i pazienti che possono essere affetti e si vanno a fare i test di conseguenza nella donna vado a fare i test genitico subito cioè non posso farlo il test dell'attività enzimatica cioè posso farlo ma se mi risulta normale non è detto che questa paziente non ce l'abbia esatto mi approfitto per farvi una domanda invece abbiamo chiaramente i pazienti da voi vengono visti in un setting ambulatoriale hanno e quindi vengono già arrivano con un sospetto con una diagnosi ma in quale contesto può capitare a noi internisti di incontrare questi pazienti per esempio lavorando in pronto soccorso qual è che può essere i sintomi la presentazione un po' campanello d'allarme che mi devono far sospettare il Fabri allora campanello d'allarme in pronto soccorso non so tanto rispondere posso dire perché i nostri pazienti col Fabri vanno in pronto soccorso cioè i motivi per cui accedono di più prima magari anche di sapere che hanno la diagnosi di Fabri per carità però sono problemi cardiaci quindi aritmie come vi ha detto Marta anche sincope la sincope può essere sia cardiogena sia da disfunzione del sistema autonomo e poi un altro dolore che invalidante come abbiamo già detto è il dolore addominale che quindi magari li può portare ad accedere in pronto soccorso ecco quando il medico di pronto soccorso si vede arrivare questi pazienti per questi motivi dire che sono Fabri è un po' difficile ovviamente però i motivi che li portano più in pièce sono questi io avrei pure un'altra curiosità riguardo la parte dei sintomi cerebrali in particolare dello stroke dell'ischemia cerebrale ci sono 25-30% degli stroke che noi non riusciamo a definire chiaramente in termini eziologici vanno sotto il grande gruppo dei criptogenetici adesso mi viene in mente se capita un paziente magari tendenzialmente giovane di cui si mettono in campo i primi test diagnostici non si trova nulla se non magari piccole cose piccoli red flags quali possono essere quelli più che diciamo indicativi che ci possono far indirizzare verso un approfondimento parlo di ipertrofia cardiaca cioè ci sono dei valori di setto di pareti che ci possono un pochino indirizzare oppure qualcosa che negli screening che vengono fatti nei test diagnostici che vengono fatti in medicina quindi in ospedale tra i più comuni senza passare magari alla risonanza che già in usaggine di secondo livello dico quella cardiaca possono in qualche maniera darci un indizio di approfondimento e di non fermarci a quello che comunemente viene fatto e poi magari senza trovare un effettivo inquadramento eziologico allora cioè secondo me in un paziente giovane con un ictus comunque una ricerca estesa va fatta quindi anche se non ho nient'altro non è successo che dei neurologi mandassero per la ricerca di Fabri degli DTA di pazienti con ictus che non era spiegato poi è vero che con l'avanzare dell'età è più complicato perché magari ci sono più comorbidità e quindi è più difficile segni specifici proprio a parte cardiaci quello che hai detto tu ma cardiaci se è un setto se è un setto già di 15 millimetri comunque è un setto ben ben ipertrofico insomma non parliamo di 13 millimetri comunque cioè sui 15 secondo me va indagato però non esiste in letteratura comunque non ci sono dei caldo che ti dicono oltre questo valore bisogna cioè aumenta un sospetto il sospetto diagnostico quello che si può fare sicuramente ma non so analizziamo meglio forse mi viene da dire l'elettrocardiogramma però abbiamo visto cioè sono veramente specifici e poco sensibili e poco sensibili anche alcuni alcune red flags purtroppo sicuramente ci aiuta di più l'ecocardio quindi comunque in generale nello stroke nel giovane c'è da pensarci anche lì dove non si trovano cose diciamo clamorosamente evidenti questo è un po' magari secondo me è importante non so la microalbuminuria è un esame che ci costa pochissimo e che spesso comunque può essere alterato in questi pazienti un po' di microalbuminuria perché un giovane deve avere la microalbuminuria ad esempio questo ci può aiutare l'altra cosa fare un esame del fondo dell'occhio costa pochissimo il paziente è un test che non è invasivo e facciamolo ok non so no no grazie era proprio questo diciamo era proprio insomma questa risposta che insomma cercavo proprio per avere degli strumenti in più per inquadrare magari alcune cose che possono poi passare senza una diagnosi precisa e magari la diagnosi viene ritardata di 8-10 anni no certo non so se ci sono altre domande da parte dei partecipanti nel caso potete prendere parola o scrivere in chat come volete altrimenti avviamo verso la chiusura non ci sono altre domande credo giusto Natalia no dalla chat non vedo domande e aspettiamo mi sembra che nessuno abbia fatto richiesta di parlare o abbia sbloccato il microfono solo prima della conclusione di fatto quindi abbiamo detto che per fare per avere la conferma della diagnosi è necessario un semplice test questo test però non può essere fatto in tutti gli ospedali giusto bisogna fare comunque l'analisi genetica non so se viene fatto in tutti gli ospedali questo sicuramente l'utilizzo delle cartine che abbiamo visto lo fanno solo alcuni laboratori di leggere questi esami quindi va inviato a centri a laboratori specialistici di solito si hanno delle convenzioni proprio quindi questo non è accessibile in tutti gli ospedali l'analisi genetica forse è più accessibile però questo di pelle non saprei dire ok va bene allora vi ringraziamo della presentazione veramente ci avete dato tanto per cui ringrazio Natalia ringrazio Valeria e Marta e ringraziamo Gis che ha messo a disposizione la piattaforma e come al solito propone temi interessantissimi se non ci sono altre domande possiamo insomma salutarci e grazie ancora grazie anche a te grazie a voi grazie a tutti buona serata buona serata